Avreste mai pensato di ottenere un rendimento da capital gain e dividendi del genere con 10 azioni italiane che battono non solo il fuzzimib, roba che forse è molto facile, ma anche le messe ai world e che con i dividendi sono praticamente in linea con l'SP500. Mi sa che però è proprio possibile. Come avevo detto sul video precedente, nel video precedente sulle azioni americane, una delle cose più difficili dell'investimento in dividendi quando si vuole fare ovviamente dello stock picking e capire quali siano le società, le aziende giuste in cui investire evitando di farlo, come avevo detto in quel video, come se si lanciassero delle freccette al muro o a un bersaglio. Si è nel contesto perdente, per cui a grande richiesta, credo, dopo la puntata USA e prima di quella Europe oggi ne facciamo una sull'Italia. Come nel video precedente, 10 aziende in contesti e settori diversi che guardino a lunghissimo periodo al dividend growth e all'apprezzamento del capitale. Ovviamente con i conti sani, quella è la base ed un payout ratio molto sostenibile. Come per quel video precedente sugli Stati Uniti e su USA, vogliamo avere una esposizione a un'ampia gamma di settori ed industrie. Questo ovviamente ci aiuterà a ridurre il rischio specifico di questo portafoglio. Detto questo, è importante come sempre ricordare che ciò che è accaduto in passato e per questo portafoglio è stato molto bello, potrebbe non ripetersi in futuro. Quindi un'azienda che ha storicamente sovraperformato il mercato, quello azionario, potrebbe poi non continuare a farlo in futuro, andando avanti nel tempo. Come ribadivo nel video precedente, potrebbe continuare a farlo, ma ci sono zero garanzie che questo avvenga e continui ad avvenire nel futuro, perché nulla è per sempre. Soprattutto per un mercato come quello italiano, poi, che tanta fama di essere bello e prosperoso non ha. Per questo formato ci concentreremo, paragonando il tutto al Fuzzimib, come rendimenti, ma vi ho fatto vedere prima che abbiamo battuto anche le MSI World, perché comunque paragonare il mercato italiano con un benchmark differente, come ad esempio quello dell'S&P 500, potrebbe essere indecoroso, anche se questo portafoglio ha avuto un'ottima performance. E poi ovviamente anche la loro crescita e il loro yield on cost, dopo un determinato numero di anni, come abbiamo fatto per quello precedente. Let's go! Ovviamente molte di queste aziende, lo dico adesso a metà, non aspettatevi che queste aziende siano come quelle americane, che aumentano i dividendi da 25 anni, perché in Italia purtroppo non funziona così, però possiamo avere un trend di crescita. Magari lo aumentano per tre anni, per due anni stanno ferme, poi lo continuano ad aumentare, però diciamo quello è il trend. Primo settore, per il primo settore le utilities. Purtroppo a differenza delle aziende e delle azioni americane, qui in Italia non abbiamo una grande scelta sui settori, anche se comunque saremo in grado di andare a diversificare abbastanza bene per questo portafoglio. Ci sono utilities italiane che andrebbero buttate nel chest store dell'immondizia, ma io ne ho scelte due che secondo me invece valgono e parecchio. E possiamo un pochino considerarle come le consumer staples all'italiana, visto che servono sempre anche loro e che comunque possono decidere se aumentare o abbassare i prezzi in base alle esigenze di mercato. Vediamo quali sono. Sono due. Purtroppo per quanto riguarda le aziende italiane i dati sono scarsi su SeekinAlpha, ce ne sono alcuni, magari qualche slide ve la farò vedere, però rispetto al video sulle aziende americane sarò leggermente più veloce. Partiamo per qui dal primo settore che è quello delle utilities e come due aziende abbiamo scelto, anzi ho scelto perché lo faccio io, Snam e Tern. Di Tern ci feci anche un video dedicato perché secondo me è un'azienda bellissima, stupenda e Snam non l'ho mai trattata, però insomma per chi investe i dividendi in Italia sapete tutti che è una di quelle aziende che veramente ha qualcosa in più. E queste due cosa hanno di particolare? Hanno le infrastrutture, cosa che non tutti hanno. Tern per quanto riguarda la rete elettrica, Snam per quanto riguarda la distribuzione del gas. Queste sono due mod, a mio parere, per queste due aziende che rendono queste aziende quasi come se fossero dei monopolisti del settore, anche se in realtà non lo sono. Però hanno tutte quante delle metriche in crescita, soprattutto per quanto riguarda fatturato, per quanto riguarda la crescita del dividendo, che vedremo poi nella schermata riepilogativa, quella del file Excel che vi ho mostrato anche nel video sugli Stati Uniti, hanno dei debiti in aumento ma sempre in maniera minore rispetto a quello che sono poi gli asset totali posseduti perché ovviamente vanno a implementare delle reti, sia elettriche che in ambito distributivo del gas, sempre più moderne, per cui hanno dei costi maggiori da sostenere. Comunque sono aziende che generano un sacco di cash flow e che comunque scelgono le tariffe perché chiunque voglia distribuire gas o voglia distribuire dell'elettricità sulle loro reti deve andare a pagargli qualcosa. Se vogliamo andare a parlare di dividendi, Snam va a distribuire un dividendo che secondo me è quello più alto dell'8, ma poi andiamo a vedere, del 6% circa, e ha una market cap di 16 miliardi circa. Mentre per quanto riguarda Terna, che io adoro, siamo anche qui intorno ai 17 miliardi, è un dividendo yield attuale di 4,37%. Ovviamente andiamoci conto che io sto facendo questo video giovedì 6 giugno uscirà la domenica, per cui non è detto che questi dati siano precisi, però l'ordine di grandezza è quello. Per il secondo settore andiamo sul finanziario, con addirittura tre aziende, visto che in Italia siamo pieni di finanziario, ma solo un bancario, perché di banche in italiane e in Italia, che oltre ad offrire un dividendo in crescita, possono offrire anche un buon riscontro in termini di capital gain, di crescita, di apprezzamento del capitale, a mio parere ce ne sono pochine, quasi niente. Ma andiamo a vedere tutte queste tre aziende, di cui a mio parere una non la conoscerete tutti. Vediamole. Passiamo poi al settore del financial. Il secondo settore, ho messo tre aziende, una un po' più deboluccia delle altre due, ma secondo me tutte e tre fanno un bel connubio. La prima è Azimut, la conoscete tutti, è un'azienda famosissima, forse chi investe in dividendo in Italia ha questa azienda, perché comunque si occupa di gestire asset under management, per cui distribuisce, diciamo, dei prodotti finanziari assicurativi un po' in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo. È molto diversificata in termini geografici, ed è per quello che l'ho scelta. Ha comunque donato dei buoni rendimenti, ha un dividendo del 3,92%, e anche lei, a parte delle piccole battute di arresto durante il suo percorso, ha del profitto ed è fatturato in crescita continua nel tempo. È un'azienda un po' diversa dalle altre due, perché? Perché è tendenzialmente un qualcosa che gestisce dal punto di vista finanziario. Mentre la seconda, e questa mi piacerà sicuramente a Lorenzo, di investire in borsa a caccia di dividendi, è l'unica banca dell'otto, Fineco. Secondo me la banca migliore in Italia, purtroppo è carissima, per cui non mi ci avvicino neanche con la pinza. Per quanto riguarda Fineco, la sua capitalizzazione è intorno ai 9 miliardi e mezzo di euro, ha un dividendo del 5,79%, ed è una banca che è una macchina da soldi, perché abbiamo una crescita del fatturato, una crescita di quello che sono il numero di correntisti, quindi anche i depositi dei correntisti. Hanno cash flow che viene sviluppato e hanno una situazione finanziaria piuttosto importante, con un dividendo anche questo in crescita veramente importante sugli ultimi 5 anni, parliamo di circa 17% di media in 5 anni. L'ultima è, non so se la conoscete, quella di cui dicevo forse non la conoscete, è Orsero, ed è un'azienda che sinceramente anch'io conoscevo poco, e che poi diciamo ho conosciuto preparando questo video, e questa azienda si occupa di importare e distribuire frutta e verdura in Europa, ma anche in America Latina e nell'America centrale. Quindi ha una distribuzione in ambito alimentare, ed io questa azienda la vado a inserire come se fosse una azienda consumer staples, perché distribuendo frutta e verdura, stiamo parlando di chi distribuisce qualcosa che di per sé deve essere per forza comprato, deve essere, e si parla di alimentare, l'alimentare è un consumer staples, ovviamente loro non vanno a produrre alimentare, ma sono all'inizio della catena, sono quelli che decidono i prezzi a monte, e per cui a valle tutti quelli che devono vendere frutta e verdura devono pagare i prezzi che aziende come Orsero vanno a decidere di usare. Espressamente Orsero si occupa di produrre avocado, di agrumi, mele, meloni, pere e frutti esotici, e ovviamente come dicevo prima anche verdure. Tutta frutta e verdura di una certa tipologia, a parte insomma meloni, pere e mele, si tratta comunque di frutta esotica, e per cui con dei prezzi ben definiti, che possono essere alzati o abbassati, in funzione di quello che è la produzione, senza che chi vada a comprarla possa dire A. Azienda sanissima dal punto di vista finanziario, e comunque A. Un dividendo attuale di circa il 4,28%, copertissimo, poi lo andiamo a vedere nel file Excel finale, che andiamo a vedere, perché secondo me è una delle migliori aziende, dell'otto che presento oggi, e devo dire, non avendola conosciuto prima, la cosa un po' mi disturba, perché effettivamente merita. Se volete approfondirla, se volete che io ci faccia un approfondimento, per favore fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Per questa terza tranche, siamo al settore industriale, l'industria, e qui di eccellenze in Italia, ne possiamo trovare tantissime, ma a mio parere questa azienda, una, unica, che ho inserito in questo portafoglio, ha un vantaggio di nome, di Mott, legato al marchio, di cui anche il nostro amico Warren Buffett, potrebbe esserne contento a mio parere. Andiamo a vedere di cosa parlo. Per quanto riguarda l'industriale, potevo scegliere fra una miriade di aziende, però secondo me questa azienda che ho scelto, Brembo, ha un Mott molto importante, perché tutti i sistemi frenanti, ad alta qualità, ad alta prestazione, vengono prodotti dalla Brembo. In Formula 1 si usa Brembo, per cui è un marchio piuttosto importante, che ha una market cap, diciamo per quanto sia importante dal punto di vista produttivo, solo intorno ai poco meno di 4 miliardi di euro, un dividendo del 2,80%, più basso rispetto agli alti, ma non è il più basso dell'otto, però si tratta di un'azienda che ha un forte, un feroce Mott di settore, con una finanza, un profitto, un fatturato, continuamente in crescita, e questo dividendo, che è anch'esso in crescita, con una media del 5,81% sui 5 anni. A mio parere, una delle migliori realtà industriali italiane, e se non la migliore, poi ovviamente fatemi sapere i vostri commenti. Per il quarto settore andiamo sul lusso, dove c'è la ciccia, anche qui siamo secondo me il pozzo del lusso, insieme alla Francia, ma il nostro secondo me è migliore, ha più gusto nelle scelte, come io ho cercato di avere gusto nelle due aziende che ho scelte, perché ne abbiamo tantissime, e in questo contesto, potevo inserire tantissime altre aziende, anche Ferrari, che secondo me fa parte del lusso, e non dell'automotive, ma che a mio parere al momento, è un pochino tanto troppo sopravvalutata. Andiamo a vedere le mie due scelte. Andiamo a parlare di lusso, in questo caso per il lusso avrei potuto inserire Ferrari, come ho detto prima, ma ovviamente Ferrari è, secondo me, a mio parere, estremamente valutata verso l'alto, per cui si può andare a scegliere aziende diverse, che abbiano magari un MOT, un qualcosa che le faccia percepire da chi compra appunto il lusso, come un qualcosa che non si può evitare. Una di questi è Brunello Cucinelli, e magari è stata nominata negli ultimi anni per varie motivazioni, comunque ha uno yield il più basso di quelli che trattiamo oggi, 0,99%, non arriva all'1%, ma ha un qualcosa di molto importante, la crescita del dividendo, che vedremo a breve. Market Cap di intorno ai 7 miliardi, è comunque una salute finanziaria che è fantastica anche in questo caso, a mio parere, con fatturato, gross profit, sempre in aumento, il balance sheet pulitissimo, con asset e in continua crescita, che sono sempre in maggiore esposizione rispetto a quelle che sono le liabilities. Dividendo, come dicevamo prima, in crescita negli ultimi 5 anni, con una media del 24%, per cui vuol dire che in alcuni anni è cresciuto anche di più, ed è per questo che questa azienda, a mio parere, ha veramente qualcosa di importante da presentare a chi investe. La seconda la potete chiedere a Marco Lippiello e Moncler, ne ha parlato lui recentemente in un video, vi ha parlato di tutti i vantaggi e di tutti i mod che questa azienda possa avere, noi parliamo per oggi di aziende che possono essere a dividendo, è un'azienda con una Market Cap attorno ai 18 miliardi, con uno yield dell'1,86% alle quotazioni attuali, anche in questo caso abbiamo del fatturato, il gross profit e quello che è tutta la salute finanziaria dell'azienda, per cui il suo balance sheet con gli asset totali che sono sempre in crescita e comunque rispetto alle liabilities totali con una grossa forchetta di importanza che la fa percepire e comunque la fa essere anche in maniera reale come un'azienda solidissima. E ovviamente se parliamo di dividendi, anche qui dividendo a basso, un'86% come ho detto prima, ma in crescita negli ultimi 5 anni in media del 22,83%. Per il quinto settore siamo sul farmaceutico, forse non abbiamo i grandi nomi americani o tedeschi, ma abbiamo anche noi delle ottime aziende nel settore farmaceutico ed in particolare una la reputo veramente fantastica. Ed è per questo che l'ho scelta e ho scelto di inserirla in questo portafoglio. Andiamo a vedere di chi parlo. E passiamo alle farmaceutiche. Per questa ho scelto ricordati e in questo caso sarà Lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi che salterà per la gioia. Market cap poco al di sotto degli 11 miliardi di euro con un new yield del 2,65%. Azienda a mio parere favolosa con fatturato gross profit sempre in crescita e con una salute finanziaria comunque ottima sempre in crescita con gli asset totali che vanno tendenzialmente a crescere con la forchetta che divide le liabilities dai asset importanti per cui molto interessante dal punto di vista di salute finanziaria. Per quanto riguarda il dividendo abbiamo detto 2,65% il dividendo medio ma con una crescita che è poco al di sotto del 5% su base anno su una media di 5 anni. Per il sesto settore ho scelto l'energy l'energetico e qui abbiamo anche dei colossi del settore anche se io mi voglio invece orientare verso un'azienda un pochino più piccola rispetto alle altre anche se fa parte del Fuzzimib ma che nel suo piccolo fa sempre il suo dovere e lo fa benissimo donando dividendi e capital gain vediamo qual è. Per quanto riguarda l'energetico qui le scelte come dicevo prima potevano essere tante ma abbiamo scelto Erg perché? Perché Erg ha qualche vantaggio in più prima di tutto è un'azienda con una market cap molto più bassa delle altre poco meno di 4 miliardi di euro stiamo intorno ai 3 miliardi e 7 3 miliardi e 8 di market cap con finanze anche qui con grossi margini che sono alti in aumento con margini operativi molto alti con fatturato in crescita nel tempo a parte il picco del 2020 in cui ovviamente a causa della pandemia i prezzi erano andati l'anno precedente alle stalle poi sono saliti alle stelle comunque azienda che a mio parere si può definire sana pur essendo una petrolifera abbiamo asset totali sempre maggiori rispetto a quelli che sono le abilities e comunque dividendo intorno al 3,91% e per quanto riguarda la media anche questo in crescita negli ultimi 5 anni lo vedremo nel file excel che ho menzionato più volte per cui andiamo a valutare questo portafoglio anche in termini di rendimento totale sui 10 anni e lo andremo a paragonare al Fuzzimib vi ricordo che sto guardando tutte queste aziende con vari siti ma molti dati come vedete a schermo sono presi da Seeking Alpha di cui recentemente ho ricevuto un bellissimo link affiliato per farvi avere tanti tanti sconti interessantissimi sia sulle iscrizioni normali che si fanno a Seeking Alpha che sulle Alpha Pix per cui se volete guardare i vari sconti trovate il link in descrizione perfetto questo sarà il nostro portafoglio completo di 10 azioni da dividendo italiane perfette o quasi e poi potete vedere qui quello che ho tenuto in conto in una ponderazione uguale per tutte le 10 azioni come ho fatto per il mercato americano quindi a ciascuno viene dato e assegnato il 10% del portafoglio diciamo su 10.000 euro e per cui 1000 euro a testa e così facendo questo ci lascerà con alcune statistiche su dividendi piuttosto interessanti nel complesso comunque vediamo come il dividendo possa andare a a influenzare il nostro cash flow futuro qual è la loro crescita stimata negli anni il loro capital gain negli ultimi 10 anni il payout ratio la crescita del dividendo sulla media dei 5 anni e per fare questo ho aggiornato il file excel che avevo creato per il portafoglio americano partiamo dalla prima schermata giusto per andare a ricordare quali sono le aziende che abbiamo inserito in questo portafoglio abbiamo Snam Terna Brunello Cucinelli Ricordati Fineco Brembo Moncler Azimut Erg ed Orsero nella seconda schermata possiamo andare a vedere qual è il dividendo attuale ai prezzi odierni ricordo che sto registrando il 6 di giugno quello più basso essere Brunello Cucinelli con lo 0,95% mentre poi andiamo ad avere il top con Snam con il 7,51% con un dividendo medio fra le varie aziende che va a raggiungere il 3,53% per quanto riguarda il dividend growth negli ultimi 5 anni quello che ha fatto crescere meno il dividendo è proprio Azimut con una media dell'1,25% negli ultimi 5 anni mentre quello che ha dato la botta a tutti è proprio Orsero con un più 51,19% negli ultimi 5 anni ma è seguita come ho detto anche durante il video da Moncler e da Brunello Cucinelli che vanno a far salire il proprio dividendo Moncler quasi il 23% e Brunello Cucinelli quasi il 24% con una media del dividendo che cresce nei 5 anni quasi il 15% un 14,5% poi andremo a fare anche il resoconto di quello che sarà il yield on cost se andiamo a investire in queste 10 aziende dopo 20 anni per quanto riguarda il capital gain l'azienda che ci ha reso di più è ricordati che negli ultimi 10 anni ha dato un 397% ma schifo non hanno fatto neanche Moncler con un 358% e Brunello Cucinelli con un 291% dividendi un po' meno belli ma comunque ottimi le hanno date le altre aziende con quella che ha reso di meno essere a Snam con il 51% insieme ad Orsero di capital gain ricordiamo questo ci dà un rendimento medio degli ultimi 10 anni di quasi un 190% se parliamo di payout ratio ovviamente vediamo che sono tutte delle grandi pagatrici per cui dedicano molto dei loro earnings al payout ratio del dividendo quella che paga di meno il dividendo è Fineco con un 48,8% e poi Brembo 31,6% e Moncler 38,2% quelle che pagano di più sono Orsero con un 80% poi abbiamo Terna con un 75% e Snam con un 70% la media però di queste aziende ci porta a poco meno del 59% di payout ratio fra le 10 aziende e ovviamente parlavamo di rendimenti andiamo a valutare il Fuzi Mib rispetto a questo portafoglio e ringrazio per questo grafico Daniele Anzelotti che collabora con me con Cornetti e Mercati che lui da consulente mi ha fatto questo bellissimo grafico e come potete vedere negli anni la forchetta fra il Fuzi Mib e questo portafoglio è veramente impressionante ma l'abbiamo visto all'inizio perché abbiamo visto come il portafoglio potesse avere una forchetta anche rispetto all'MCI World e fosse molto vicino all'S&P 500 con un beta dello 0,57 con un beta di 0,51 e per cui con una correlazione e una volatilità del mercato molto più bassa rispetto al mercato di riferimento il Fuzi Mib possiamo andare a vedere infatti che la volatilità di questo portafoglio di 15,6 contro il 22,3 di Fuzi Mib un drawdown massimo del meno 31,74% contro il Fuzi Mib un meno 41,5% sono quasi 10 punti percentuali sicuramente sono delle ottime metriche anche il recovery period dai drawdown abbiamo il portafoglio creato in questo momento che ci ha messo 246 giorni contro i 449 giorni del Fuzi Mib per cui come per il portafoglio americano andiamo a inserire un principal uno starting amount di 10.000 euro non andiamo a contribuire mai in questi 20 anni abbiamo il noto per cui non è il 37% come per il portafoglio americano abbiamo messo la media di dividendi che abbiamo trovato appunto sul foglio Excel che ho preparato del 3,5% e poi invece di mettere la crescita annuale del 15 quasi 15% 14,5% sul foglio Excel l'ho abbassato al 10% che è molto più realistico sui 20 anni e anche il ritorno aspettato invece di essere un 189% di media anno che mi sembra al di fuori dal normale lo sono andato ad abbassare fino al 10% che mi sembra molto raggiungibile rispetto alle aziende che abbiamo in portafoglio queste 10 aziende per 20 anni otteniamo dei risultati molto più importanti rispetto a quello solo americano ecco per dire che le aziende italiane secondo me fanno cagare però se si sanno scegliere se si sanno andare a trovare quelle che sono le chicche del mercato italiano si possono avere dei ritorni molto interessanti infatti quei 10.000 euro dopo 20 anni sono diventati 107.000 con un ritorno totale del 971% e mezzo per cui un ritorno totale include dividendi e capital gain con un ritorno annuale di circa un 12,59% dividendi andremo a ricevere uno yield on cost del 33% dopo 20 anni saremo passati da un dividendo medio del 10% a un dividendo del 33% senza andare a mediare con le nostre quote e in quest'ultima schermata andiamo a vedere come i dividendi il primo anno sarebbero stati di 350 euro mentre al 20esimo anno sarebbero circa 27.000 euro di dividendi diviso 12 insomma è un bel gruzzoletto per chi vuole abbinare alla pensione classica sempre che ci sia anche una distribuzione per aiutarsi a vivere tutto questo avendo investito solo 10.000 euro all'inizio uno direbbe solo beh però penso che la maggior parte delle persone possono aspettare 20 anni per poi trovarsi un capitale che sia circa di 100.000 euro avendo investito solo 10.000 secondo me questo portafoglio schifo non fa ma poi ditemi voi io lo reputo veramente un bel portafoglio io spesso dico che investire in azioni italiane non mi piace ma molto delle aziende che abbiamo visto oggi in questo video sono quelle che secondo me sono le eccellenze da ricercare continuamente nel nostro mercato perché ci sono io raramente investo in aziende italiane ma credo di aver fatto una bella schematura ma ditemi la vostra lasciando un commento qui sotto e la vostra opinione in merito spero di avervi dato un approccio diverso alla composizione di un portafoglio da dividendi tutto italiano e vi ricordo che vi voglio bene e ci vediamo a un prossimo video ciao a presto ciao a presto ciao a presto Grazie a tutti.